La richiesta di aumentare il numero dei medici di base, perché sulla scorta di una carenza registrata rispetto al far bisogno, è storicamente insieme all'aumento delle borse di studio la richiesta che le rappresentanze sindacali dei medici di base hanno fatto al sistema. Io credo che in questa fase così delicata della riforma con il lancio di questo nuovo modello di presa in carico, questo tema vada analizzato alla luce anche degli effetti più o meno positivi che si potrebbero generare con una più efficiente presa in carico del paziente. I medici di base sono chiamati a svolgere un ruolo di primo piano e io credo che se vi sia la possibilità di una loro adesione fattiva e concreta a questo percorso possa essere risolto anche il tema della loro carenza, anche eventualmente integrandolo ma con un sistema a regime. Grazie.